In questo primo esempio consideriamo il caso di un sistema che contiene un solo parametro e solo nella matrice dei coefficienti. Consideriamo quindi la matrice dei coefficienti m uguale a 6 k 2 1 ottenuta prendendo i coefficienti delle due equazioni e calcoliamo il determinante della matrice dei coefficienti come prodotto degli elementi della diagonale principale meno il prodotto degli altri due elementi. Osserviamo che questo determinante si annulla per k uguale a 3. Quindi osserviamo che nel caso k diverso da 3 abbiamo il sistema crameriano perché la matrice dei coefficienti è quadrata e con determinante diverso da zero. Quindi per k diverso da 3 il sistema ammette un'unica soluzione. consideriamo adesso il valore di k escluso cioè k uguale a 3. In questo caso per k uguale a 3 il determinante della matrice dei coefficienti si annulla. Quindi la caratteristica della matrice m è uguale a 1 perché il determinante è uguale a zero. Quindi dobbiamo considerare in questo caso la matrice completa. La matrice completa è la matrice che si ottiene dalla matrice dei coefficienti con anche la colonna con aggiunta la colonna dei termini noti e la scriviamo nel caso di k uguale a 3. Quindi la matrice 6, 3, 1, 2, 1, 5. Osserviamo che questa matrice non ha le righe proporzionali. Quindi la caratteristica di questa matrice sarà uguale a 2. Avendo concluso che la caratteristica di m è diversa dalla caratteristica della matrice completa, allora concludiamo che nel caso k uguale a 3 il sistema non è risolubile.